Senatore Giorgetti della Lega Nord Ormai di casa Legnano Mi piace il ciclismo, mi piace lo sport poi ci sono queste gare che sono la tradizione e dobbiamo anche in anni difficili come questo fare di tutto per tenerle vive quindi era giusto sono in viaggio per Genova per l'inaugurazione del Ponte ma era giusto fare un passaggio e dare l'incoraggiamento agli organizzatori che sono riusciti nonostante tutti questi problemi a tenere in piedi la manifestazione Ripartire da qui, da Legnano, da Varese, da Lissone che senso ha? Il senso è che qua il ciclismo è di casa ha una grande storia è chiaro che anche il ciclismo è molto cambiato tenere in piedi squadre professionistiche in Italia sembra quasi impossibile però bisogna mettercela tutto perché la passione degli sportivi è sempre grande grazie senatore e buona giornata